Ma vi ricordate quando eravamo giovani e volevamo spaccare il mondo? Lui, se le conosci le regole, mai lavorare! Io lo giuro, giuro, giuro! Io ho la stessa identica voglia di spaccare il mondo di prima. Nessuna. Ma tu che fai nella vita? Io nienti, tu! Sì, anch'io! Noi stiamo cercando una figura full time. Come full time? Ma vi ho detto che la mattina non posso! Dove mi ha portato? Ma quando mai siamo stati in una festa con tutte queste tiche che fumano erba? Luca, come here! Dai, fa freddo! Come here, non fa freddo! Ma che cazzo serve? E la devo mettere su Instagram? Se uno volesse lavorare con voi... Azzì, scenico, occupato! Ma perché occupate? Ma che cazzo hai detto? A fascio, tes fascio! Come c'è da lavorare, cara? Oddio Luca, ma che stai a dire? Abbiamo iniziato a fare questi lavoretti part time, ma lui c'è rimasto sotto. Non fottere con noi. Sembra proprio che sia la resa dei conti, eh? L'hai voluto tu! Noi ogni sfida e ogni difficoltà abbiamo promesso che non l'avremmo affrontata! Non l'avremmo affrontata insieme! Oh, Matteo, va, sto zitto! Stop! E che cazzo, Matteo? Ma che sto da girare? Una web serie, si chiama idraulici. Dai, ecce, turbofregna. Non l'avremmo affrontata. Grazie.